Salve amici bentornati nel canale ricette fai da te. Oggi parliamo nuovamente del rosmarino. La mia bisnonna diceva sempre di venerare questa pianta, di averla sempre a disposizione. E' uguale se in vaso, sul balcone o in terrazzo, in orto o in giardino, ma proteggerla, far sì che questa pianta cresca bene. Ed aveva ragione, perché questa pianta ha molteplici proprietà. In questo video parliamo come liberare i bronchi dal catarro e il naso dal muco, con un semplice aerosol della nonna, che sicuramente in molti abbiamo visto, ma pochi lo ricordiamo. Raccogliamo pochi ramecchi di rosmarino. In un vecchio pentolino mettiamo un po' di acqua, fino alla metà del pentolino. Spezzettiamo i rametti dentro e lasciamoli agire per pochissimi minuti. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici. Attivate la campanellina a tutte le notifiche. Condividere il video tra amici e parenti. Poi mettiamo il pentolino sul termosifone. Io lo metto sulla stupa a legna e lo metto all'angolo, perché non deve avere il calone assiduo, forte. Dopo pochi minuti il pentolino emanerà un vapore, ovvero il miscuglio di acqua con rosmarino e calore incomincerà ad evaporare. Questo vapore, se lo respirate profondamente, vi libererà i bronchi e il naso dal muco e dal catardo. E funziona davvero, oltre ad avere un fragrante profumo in casa. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!